L'influenza stagionale non dà tregua alla Puglia e ad essere colpiti sono soprattutto i bambini. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio settimanale effettuato, come di consueto, dalla rete dei medici Sentinella. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 27 novembre e il 3 dicembre, quando nella regione sono stati registrati 821 nuovi casi di influenza per un'incidenza pari al 9,35 casi ogni mille pazienti assistiti dai medici di base. Una cifra che si colloca ben al di sopra di quella che è valutata come la media stagionale. Complice probabilmente il drastico abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, il virus sta circolando molto più in fretta. Nella settimana del monitoraggio l'incidenza si è infatti nettamente alzata rispetto ai sette giorni precedenti, coinvolgendo anche la fascia più anziana della popolazione, nonché quella più a rischio. I più colpiti tuttavia, numeri alla mano, restano i bambini. Nella fascia d'età compresa tra 0 e 4 anni si registrano infatti 14,21 casi ogni mille assistiti contro i 9 della scorsa settimana. 9,36 invece i casi relativi ai bambini tra i 5 e i 14 anni. Dati in salita anche tra gli adulti, sono 9,60 casi ogni mille pazienti nella fascia tra 15 e 64 anni. Virus in crescita anche nella popolazione over 65, con 7,27 casi, con un'incidenza ben più elevata rispetto alla media stagionale.